...che la gente, i produttori che oggi guardano i giornali, non credo che si rivedranno in questo... ...alcune questioni, da 2012 che abbiamo iniziato questo lavoro, non c'è stato un annetto... ...ma io amo troppo la mia terra per vederla... ...con una bianca vuole fare proprio questi valori di resilienza e di sicurezza... ...un po' di emozione più rispetto alla mia morte... ...c'è il simbolo del... Oltre dai consigli, diciamo, tecnici sui, idratanti nei nostri vigneti, in modo da ridurre... Grazie.